Un doveroso ricordo di quello che successe più di vent'anni fa, ma soprattutto un doveroso ricordo di quelli che sono i valori che devono essere alla base di una società civile e di quelli che devono essere gli antivalori che devono essere contrastati. Sono questioni che nascono dal basso, che nascono dai bambini, dalla scuola, dal rispetto delle regole di vivere civile che non assurgono ancora ad essere leggi ma che sono indicative della volontà di rispettare la legalità. Ripeto, la si rispetta dal basso, dal poco, dal piccolo. Con la possibilità di instillare questi principi, chi cresce poi sarà anche consapevole della necessità di rispettare le regole della nostra società.